In meno di due mesi la raccolta fondi per il pagamento delle spese legali, 14.000 euro, a cui sono stati condannati i familiari di alcune vittime del terremoto, raggiunge l'obiettivo, anzi lo supera, con oltre 16.000 euro. L'eccedenza di 2.500 euro verrà donata al reparto di oncologia del San Salvatore. Si potrà continuare a donare. L'idea è partita dall'Associazione L'Aquila per la Vita del Presidente Giorgio Paravano, sottoscritta dal Comune, alla quale hanno aderito tantissime persone anche da fuori città. Le suori di San Basilio, l'AIA e dell'Associazione Trapiantati di Rene, un partito, un sindacato, tanti ordini professionali hanno donato, ma pure diversi consiglieri regionali, giunta comunale, consiglieri e sindaco, anche persone che hanno perso figli nel sisma. Ma di là della cifra è stato importante il senso di comunità e solidarietà, il risveglio delle coscienze. Questo hanno voluto sottolineare i membri dell'Associazione Familiari Vittime del Sisma in una conferenza stampa. I nostri figli facevano gli studenti, vivevano qui all'Aquila già da diversi anni, e quindi facevano parte di questo tessuto sociale, quindi si potevano definire anche loro Aguilani. E quindi la popolazione ha reagito proprio a questo, all'indifferenza dei giudici, alla poca sensibilità e al fatto che siano stati incolpati della prova morte. La stanchezza penso che è venuta dopo 15 anni, proprio perché sono stati toccati i giovani. E quindi noi abbiamo, io ero sicuro di questa, della riuscita positiva, e come sono felice anche della proposta di Giorgio di donare l'eccedenza all'ospedale dell'Aquila perché è giusto, le persone che soffrono vanno sempre aiutate, a prescindere dal motivo, a prescindere dal contesto. Sono soddisfatto ancora di più perché ho lavorato per 40 anni nella sanità e mi sono trovato spesso a contatto con la sofferenza. E quindi fare parte di questo piccolo sollievo mi fa onore. Grazie.